Tauria Nova, chiedeva il pizzo anche dal carcere, arrestati dalla polizia Rocco Pesce, Domenico Cianci e Luigi Cutri. Sono uscito dal carcere dopo 25 anni, non pensavo di rimanere tanto in galera per l'omicidio di un carabiniere, voglio riprendere la guardiania della zona. Così Domenico Cianci, 67 anni, commentava la sua detenzione iniziata dopo la strage di Razzà di Tauria Nova.